... perché ci sono tante piccole realtà anche come questa che comunque vanno avanti anche grazie soprattutto alla volontà e alla passione che avete voi giovani nel mettere, ecco di far conoscere anche ad altri insomma la vostra passione anche attraverso come dicevi giustamente la mostra, vogliamo anche ricordarla, la mostra che ha Palazzo Parvi. La nostra riportiva è una mostra collettiva, infatti ci sono moltissimi stili, geni, moltissimi giovani, diversi persone, infatti la persona che ci trova è questa persona, a chi veramente anche di talento. Io ti chiedo, il nome dell'associazione, Porto Martis, come è nato? Ah, diciamo, Porto Martis, l'italianza del Porto Martis, abbiamo deciso di mettere il Porto, come è il punto di schiaccio di Porto, ma quindi ci arriva di due, perché non c'erano di due, tra l'issime realtà, e questo abbiamo deciso di questo Porto Martis. Comunque siamo pronti per accogliere qualsiasi richiesta dall'estremo, magari a 360 gradi, ma possiamo poter dare...